Gesù dà ai propri apostoli, ai propri discepoli, l'annuncio, il secondo annuncio che ci riferisce Marco, della passione. E' qualcosa di sconvolgente per loro il pensare che il Messia atteso, il Messia glorioso, finisca così miseramente crocifisso, sconfitto. E Gesù dice loro che il Messia che sta per essere figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini che lo uccideranno, ma ripete ancora, risorgerà. Qualcosa si apre, qualcosa di nuovo, qualcosa di speciale si aggiunge, sarà sepolto, sarà sconfitto, ma non è una sconfitta totale e definitiva. Non è il per sempre, ma è solamente il passaggio alla vita. Sarà glorificato, risorgerà, darà e avrà vita nuova. Il discepolo è chiamato ad annientarsi in lui. È come la farfalla che danza attorno alla luce fino a bruciarsi, fino a bruciare le ali, non poter volare più. E così è il discepolo, che danza attorno all'amore per lasciarsi catturare da lui ed essere una cosa sola con lui. E questo è il cammino che Gesù indica ai propri discepoli. La vita che non conosce tramonto, la vita dell'eternità, passa attraverso, è originata da questo passaggio attraverso la croce, attraverso la notte. Gesù può sognare, sperare l'aurora, l'alba e lo spuntare del sole, come tra i nostri monti. Gesù dice ancora una volta con questo modo di insegnare, da un lato c'è l'annuncio della morte e della risurrezione, e dall'altro la modalità per poter vivere, per poter accogliere dai discepoli questo mistero del Dio crocifisso. dice davanti a questo annuncio, i discepoli si mettono ancora a discutere tra di loro chi sia il più grande. Quindi siamo in una posizione completamente opposta al discorso di Gesù. E Gesù dice a loro, non esiste tra voi una graduatoria, non ci deve essere la graduatoria tra chi è più forte, più potente, chi vale di più e chi invece conta nulla. Per poter entrare nel Regno dei Cieli, dobbiamo mettere da parte tutte quelle che sono le categorie mondane, del prestigio, del potere ad ogni costo, della carriera. Tutto questo va messo da parte perché non c'entra niente, anzi è fuorviante. Ed è letterio avere queste idee qui. Il discepolo è colui che con la docilità, con la tenerezza, con la fiducia di un bambino, sa tendere la mano all'amore del padre che l'attende attraverso il figlio. E' colui che sa fidarsi e da fidarsi dall'amore di Dio per poter entrare nel Regno dei Cieli, per poter passare attraverso la croce, alla risurrezione, alla vita dell'eternità. E' necessario avere questo atteggiamento, questo stile di vita umile, docile e semplice, capace di stupore e di meraviglia, capace ancora sempre di lasciare che il proprio cuore, la propria vita sia abitata unicamente dall'amore del Signore che si fa dono e servizio per gli altri. Se la vita è piena solo dei propri progetti, che se poi non li realizziamo diventiamo anche frustrati. Se la vita è piena solamente dei nostri criteri di valutazione, che chissà perché giusti sono solamente i nostri. Se siamo sempre inquieti e insoddisfatti di tutto, è difficile poter lasciare che l'amore di Dio abiti il cuore. Perché è già strapieno, stracolmo di noi stessi. Siamo già noi, ricolbi. A tappo. Per cui è necessario, per essere discepoli, fare spazio, svuotarci di noi stessi, per fare spazio alla sovrabbondanza dell'amore di Dio. Nell'accoglierlo con docilità, con umiltà, nel saperlo diffondere attorno a noi con le nostre relazioni belle, con le nostre relazioni ricche di sensibilità verso gli altri, di servizio, di condivisione. Essere discepolo con il disincanto dei bambini è la strada, la via, proprio per poter entrare nella luce, nella gloria del regno che il crocifisso risorto ha preparato per ciascuno di noi. Grazie.